Partenza laterale di Duccio Marsili che lo porta subito davanti in seconda posizione Ivo Sivillieri in questa prima semifinale. Salino e Soriani nell'ordine a Luca Duccio Marsili è in forma strepitosa il campione stanese. Oggi in colore junk. Marsili e Sivillieri con la seconda posizione con la Salino all'interno. Non è assolutamente vero. Duccio Marsili e Marsili Sivillieri in finale, vicinissimo alla Salino. Grande contenta come al solito di Alessio Piergigli e grande frequenza anche sulla prima curva. Piergiglia e Mauroni, poi Massagoloni nell'ordine, Piergigli e Mauroni ma non è ancora detta. Giacomo Marta all'interno. Giacomo Marta riesce a passare. Giacomo Marta riesce a passare. Giacomo Marta riesce a passare. Giacomo Marta è sulla curva. Arriva Piergigli. Sul traguardo Piergigli e Mauroni attendiamo. Torniamo! Parcia la partida d'alatto. Marsili e Piergigli. Entra l'andina. Gran condizione. Seguilo! Seguilo!